Il mio nuovo album uscirà a primavera, a marzo, e sarà anticipato dall'uscita appunto di un videoclip. Il brano si chiama Dove Sei, il videoclip è stato girato dal bacino di Silviana, da Davide Ricchiuti e Mia Caldarella per il film For Breakfast. Loro hanno fatto anche il video di Susanna e di Vasco Rossi, sono molto bravi. E niente, il brano parla d'amore, dell'amore anche un po' idealizzato, che un po' si attende e si cerca sempre. Sono molto legato a questo brano, perché sia musicalmente che testualmente lo sento molto io. Le immagini sono molto belle perché sono state fatte in autunno al bacino di Silviana, che secondo me è un posto magico, un posto dove ho passato un po' al mio infanzio e ho proprio scelto io questa location, poi il resto lo vedrete voi. Ciao! Grazie a tutti!